Musica Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. La legge di stabilità varata dal Consiglio dei Ministri imbocca la direzione del taglio delle tasse. L'obiettivo è altamente condiviso da ConfCommercio, ma ad alcune condizioni. Il presidente di ConfCommercio Vicenza, Sergio Rebecca, ne elenca subito le principali. Prendiamo l'IRES, dice. Benvenga l'abbattimento, ma gran parte delle nostre imprese, società di persone e ditte individuali, non la pagano. Per cui si pensa alle grandi imprese, non alle piccole, che sono il vero insieme portante del nostro sistema economico. Per queste sarebbero necessarie altre misure, come la riduzione della liquide IRPEF o l'aumento immediato della franchigia per l'IRAP, senza dover aspettare 2017. O ancora quel provvedimento che continuiamo a chiedere a gran voce, ossia la totale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese. Gli investimenti fatti in tal senso da negozianti e albergatori, per dare una maggiore sicurezza alla loro attività, andrebbero infatti premiati con un concreto abbattimento del relativo carico fiscale. In pratica per ConfCommercio va bene l'azione intrapresa dall'esecutivo, ma è su piccoli e medi imprenditori e famiglie che vanno fatti sentire concretamente gli effetti positivi di una riduzione della pressione fiscale. Riteniamo determinante, commenta il Presidente Rebeca, ad esempio la scelta di non applicare la clausola di salvaguardia che avrebbe fatto aumentare l'IVA dal 1 gennaio 2016, con effetti a nostro avviso pesantissimi sulla ripresa dei consumi. Altro provvedimento condivisibile e atteso è l'inalzamento a 3.000 euro della soglia di utilizzo del contante. Bene anche la conferma dei bonus per l'acquisto di mobili, per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica degli immobili. All'Università del Gusto luci puntate sulla guida di Luigi Costa, Venezia Tavola 2016. In passerella nove ristoranti premiati dalla guida, tra i quali due vicentini. La cucina della nostra area, delle tre Venezie, continua a crescere. Anche se questo crea un momento di interrogativo, perché non si è mai mangiato così bene e la ristorazione invece qualche sofferenza ce l'ha. Forse è cambiato, sta cambiando il modo epocale, il modo di mangiare. Comunque noi ci teniamo i risultati intanto che acquisiscono i nostri ristoratori. Questa è un'eccellenza che viene riconosciuta in tutto il mondo ed è un'eccellenza su cui è opportuno che tutti noi ci mettiamo testa, passione e cuore perché è un volano economico davvero importante. E queste sono eccellenze che non sono replicabili, sono esportabili ma non replicabili. La formazione è importante perché se noi vogliamo vendere qualità non possiamo lasciarla all'improvvisazione. Servono professionisti preparati in centri di formazione come questo che possono trasferire la propria conoscenza in termini di qualità al pubblico. Un premio inaspettato forse, ho sempre girato, ho sempre fatto le varie fiere, vinicole, ho girato diverse cantine e tuttora lo sto facendo per appurare più a livello di palato, raffinarlo ancora di più perché non mi sento ancora arrivato giustamente, ci si arriva mai. Si deve sempre imparare quindi cerco sempre di migliorare di giorno in giorno. Le guide che ho visto così, Vicenza prende sempre più piede su Padova, su Verona, su Treviso dove anche lì realmente ci sono delle grosse realtà di ristorazione. Vedo tanti giovani bravi, veramente interessante. 60.000 euro in contributi per azioni di riqualificazione degli immobili e degli spazi destinati al commercio. E' questa la cifra messa a disposizione da uno specifico bando emesso nei giorni scorsi e che scadrà il 23 ottobre prossimo dal comune di Asiago che rientra nelle azioni previste per valorizzare e promuovere il distretto commerciale della città. Il contributo che andrà a coprire il 40% delle spese effettuate sino ad un massimo di 4.000 euro per singola attività potrà essere utilizzato dai negozi, attività turistiche o dei servizi che intendono effettuare interventi quali sistemazione di facciate, sostituzione di insegne commerciali e tendaggio esterni, interventi a vetrine, illuminazione, seramenti ed altro. E' un'opportunità davvero interessante per le nostre imprese, è il commento di Angela Calli, presidente della Delegazione Cittadina di Confcommercio, perché dà concretezza alle linee guida che ci eravamo proposti quando l'amministrazione comunale ha creato, con la nostra essenziale collaborazione, il distretto Asiago, il tuo centro commerciale all'aperto. La finalità, continua la presidente Calli, è infatti quella di sviluppare il nostro settore, riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, favorendone la riqualificazione e ricercando nuove strategie di sviluppo commerciale. Il primo step in tal senso è dunque quello di intervenire sugli aspetti estetici delle attività, ammodernandone l'immagine e dunque anche la pilla. Il personale della sede mandamentale di Confcommercio di Asiago è a disposizione delle imprese per informazioni e supporto. Sarà un weekend goloso e ricco di eventi, quello che si svolgerà nel centro storico di Vicenza da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Nelle principali piazze sarà protagonista l'undicesima edizione di Cioccolandovi, la grande kermesse di inizio autunno promossa da Confcommercio Vicenza, dedicata al cioccolato di qualità. Ma ci saranno anche molti altri eventi organizzati dai commercianti del centro a portare vivacità e momenti di festa nel cuore della città. Gli stand saranno aperti al pubblico venerdì 23 ottobre dalle 13 alle 23, sabato 24 ottobre dalle 9 alle 2 di notte e domenica 25 ottobre dalle 10 alle 20. In occasione del weekend goloso di Cioccolandovi, alcuni negozi del centro storico allestiranno le loro vetrine, ispirandosi appunto al tema del cioccolato. Infine, per approfondire la conoscenza del cioccolato e la realizzazione di prelibatezze al cacao, l'Università del Gusto propone un corso esclusivo con il maestro pasticcere cioccolatiero Alberto Tosato, che si svolgerà l'11 novembre in orario serale e sarà l'occasione di apprendere le tecniche per creare da sé squisiti cioccolatini e finissima pasticceria al cacao. A vivacizzare in centro storico ci sarà anche la rassegna Gorgonzolandovi, un'esposizione di 25 banchi in cui verranno proposti i migliori formaggi tipici italiani, tra cui il principale sarà il più noto formaggio lombardo, appunto il gorgonzola. In vendita anche tanti altri prodotti che ben si abbinano ad accompagnare il formaggio sulle tavole. In corso Fogazzaro, sabato 24 ottobre, avrà inizio alle 19 la Notte Bianca, musica, singoli eventi organizzati dai commercianti della via e negozi aperti, sino alle 24 saranno i principali ingredienti della festa. Sabato 24 ottobre, in occasione appunto di Cioccolandovi e degli altri eventi in centro storico, negozi e pubblici esercizi potranno prolungare l'orario di apertura. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono comunque disponibili sul sito www.cioccolandovi.it Il Consiglio di amministrazione di Terfi di Veneto, la cooperativa di garanzia e credito di riferimento per le confcommercio di Vicenza, Treviso e Padova, ha convocato un'assemblea straordinaria separata per i soci della sede secondaria di Vicenza. Possono partecipare, previo contatto telefonico per verifica, i soci iscritti in Terfi di Veneto da almeno 90 giorni. L'assemblea si terrà nella sede provinciale Confcommercio di Vicenza, in via Faccio 38, il giorno 20 ottobre alle ore 15. Si tratta di uno dei passaggi necessari per giungere all'approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione di Terfi di Veneto in Fidi, Impresa e Turismo Veneto, Società Cooperativa per Azioni, che consentirà un ulteriore allargamento territoriale. ESAC Formazione Un centro innovativo per costruire professionalità nel settore del terziario, sviluppare cultura del lavoro, trovare nuove idee per affrontare le sfide del cambiamento. Scopri l'ampia offerta di corsi sul sito esacformazione.it o vieni nella nostra sede a Creazzo-Vicenza in via Piazzon 40. ESAC Formazione Dà energia al tuo futuro. Ed ora la formazione. ESAC Formazione propone il 2 e 9 novembre il corso di packaging e addobbi natalizi con idee innovative e suggerimenti per personalizzare il negozio con incarti, addobbi e ornamenti in vista delle feste. Dal 9 al 23 novembre il corso di Laiut per il punto vendita, ovvero arredi, prodotti e luci per emozionare il cliente affinché l'acquisto diventi un momento per ricordare e raccontare. L'Università del Gusto propone il 3 novembre il corso con degustazioni ad ogni pizza e la sua birra per scoprire le migliori combinazioni. Infine il 5 novembre corso per professionisti dedicato ai dolci al piatto con il maestro Emanuele Forcone, vincitore della Coupe du Monde della Patisserie 2015. Ed ora l'agenda. Lunedì evento della 50 e più Generation, pronti per il futuro, 19 e 20 ottobre. Alle 20 e 30 consiglio dell'Associazione Provinciale Fioristi. Martedì alle 13 consiglio della Delegazione Comunale di Grisignano di Zocco, mentre alle 14 e 30 assemblea mandamentale dell'Associazione Provinciale Agenti Immobiliari d'Affari e Mediazione. Alle 15 assemblea straordinaria di Terfidi Veneto e consiglio della Delegazione Comunale di Conco. Mercoledì alle 13 consiglio dell'Associazione Provinciale Dettaglianti Tessili, Abbigliamento e Arredamento. Alle 18 e 30 riunione delle macellerie aderenti all'iniziativa Le Macellerie del Gusto. Alle 20 e 45 consiglio della Delegazione Comunale di Longare. Giovedì alle 20 e 30 consiglio dell'Associazione Provinciale Imprese, Onoranze e Funebri. Venerdì alle 13 inaugurazione di Cioccolandovi. Sabato e domenica in centro a Vicenza, Cioccolandovi 2015. Per quanto riguarda questo appuntamento con CovCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana. Grazie a tutti.